Oggi abbiamo parlato del nuovo disciplinare di allertamento per rischio idraulico ed idrogeologico in Piemonte, delibera del 30 di luglio e dal primo di dicembre entra in vigore questo nuovo sistema. Questo nuovo sistema non cambia molto la sostanza del precedente, salvo modificare alcuni aspetti, alcuni concetti, soprattutto sul discorso della fase operativa, cioè a fronte del bollettino di allerta metodidrologica emessa da ARPA, giallo, arancione e rosso, i colori che adesso iniziamo a conoscere delle allerte, che cosa si deve fare a livello di amministrazioni coinvolte sul territorio. Questa è un po' la novità reale del nuovo disciplinare. Questo nell'ottica di una richiesta normativa di fatto fatta dal Dipartimento nel 2016 in cui veniva chiesta a tutte le regioni di lavorare congiuntamente verso una forma di omogenizzazione e sulle allerte di colore, quindi avere un unico linguaggio comune, conosciuto da tutti in Italia, quindi giallo, arancione e rosso come dicevo prima, ma anche capire che cosa significa quando siamo in fase operativa di attenzione, di preallarme e di allarme. Grossi cambiamenti non ce ne sono. Diciamo che a livello regionale noi continuiamo a mantenere la logica di aperture di sale operative, quindi di supporto e coordinamento a quello che succede sul territorio piemontese in presenza di allerta arancione. Questo è il nostro modo di lavorare. A livello invece locale dei sindaci, i sindaci in base anche a quello che è il piano comunale, quali sono le criticità indicate nel piano comunale e come si sta svolgendo il maltempo sul proprio territorio attivano il proprio centro operativo comunale oppure fanno delle azioni più importanti di salvaguardia della pubblica e privata incolumità sul territorio. Questo sempre nell'ottica però di un forte scambio di comunicazione per indirizzare molto più velocemente e molto più efficacemente eventuali interventi di soccorso sul territorio. È importante questo ruolo di cerniera tra l'amministrazione locale e la propria popolazione per comunicare a chi vive sul territorio quali sono i principali scenari di maltempo, di evento previsto e anche come comportarsi, quali sono le regole di autoprotezione di comportamento le più idonee da tenere in riferimento al tipo di previsione meto venga fatta. In questo diciamo a livello di tutte le amministrazioni partendo da quelle comunali, le amministrazioni di città metropolitana e prefetture e Regione Piemonte abbiamo ormai da anni pubblichiamo ogni qualvolta ci sono allerte per il maltempo delle regole banali, banali diciamo facili, importanti da attuare in caso di come comportarsi, cosa fare in caso di maltempo.